La mia testa! Oh, che dolore! Che ti succede? Non ti avvicinare, Snake! Stai bene? Che cosa è successo? Ah, nessun problema. Ok. Andiamo. Prego, signor Foxhound. Il comandante la sta aspettando. Snake. Dimi. Io ti piaccio. Ma che? Ti piaccio. Stringimi, Snake. Che ti è successo? Avanti. Fai l'amore con me. Snake, ti voglio. Chi è quello? Non ti piacciono le ragazze? Snake, Meryl non è in sé. Non usare la tua arma. È Psicomantis. Sta controllando Meryl. Quel suono è la sua musica di controllo mentale. Non usare le armi. Prova a stordirla. Donna inutile. Mi meditazione ottica, eh? Spero che non sia il tuo unico trucco. Tu... Tu ossi dubitare del mio potere? Ora ti mostrerò cosa è in grado di fare il più potente praticante di psicocinesi e di telepatia del mondo. No, non c'è bisogno di parole, Snake. Sono Psicomantis. Non è un trucco. È tutto vero. È il mio potere. È inutile. Te l'ho detto. Chiesco a leggere tutti i tuoi pensieri.